Ma è un episodio grave perché poi un omicidio è un omicidio ed è una cosa grave. Purtroppo rispecchia l'andamento delle cose del quartiere, nel senso che in questa zona che avrebbe bisogno sicuramente di più controlli, di una diversa visione della zona, quindi di uno sfruttamento della zona non per una movida selvaggia fatta di ubriachi e di spacciatori ma di gente per bene che viene a frequentare il centro storico perché è un bel posto dove stare e non perché è un posto dove si può fare quello che si vuole, schiamazzare senza nessun controllo. Noi aspettiamo da anni e chiediamo da anni all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine che intervengano per riportare il centro storico allo splendore che ha. Purtroppo aspettiamo in vano da anni e siamo arrivati adesso a questo grave episodio. Secondo lei come si può fare per valorizzare le attività che portano animazione buona e che quindi diventano un punto di aggregazione per le persone che vogliono vivere in maniera positiva il centro storico da quelle che invece causano problemi? Ma innanzitutto dobbiamo cambiare nella testa dei genovesi il fatto che il centro storico è un posto degradato il centro storico non è così è un posto abitato da persone normali e quindi deve essere frequentato da persone che vengono qui perché hanno il piacere di venire e non per bere e ubriacarsi quindi bisogna togliere innanzitutto le attività commerciali che hanno il solo fine di spacciare alcol bisogna togliere gli spacciatori di altre sostanze che girano intorno ai frequentatori e migliorare la frequentazione dei luoghi. Francesco Brignola Francesco Brignola è un abitante residente in Piazza delle Erbe in particolare come si vive in Piazza delle Erbe? Bene, molto bene ma grazie alla presenza di persone che hanno coraggio che tutti i giorni tirano sulla serranda e aprono i bar. Sono loro che ci permettono di arrivare la sera tranquilli a casa la mattina si esce, c'è un volto amico eccetera. Invece succede una cosa come quelle che sono successe ieri sera, ecco dove succedono? Eh succedono dove non c'è luce, dove non ci sono serrande aperte ma magari sono davanti dei garage che quindi alle 7 di sera chiudono, dove quando c'è buio non c'è più nessuno, dove c'è degrado, dove non ci sono le attività commerciali. Se lei dovesse chiedere qualcosa alle autorità, che cosa chiederebbe? Presenza e soprattutto che quando chi tutte le sere alza la serranda e tiene aperto fino a una certa ora e rende vivere una piazza, chiama, se potessero arrivare celermente non sarebbe male.